Mamma mia, mamma mia. Nel momento in cui ho cominciato a registrare è appena scoccato l'ottantasettesimo. Il primo commento che ho fatto, quando ho visto la formazione, è stato Cagliari che presumibilmente soffrirà l'assenza di contropiedisti. E penso di averci preso. Tralasciando quello che ha fatto Nandez nel primo tempo in cui poi ha sprecato perché ha tergiversato, che poi tergiversare nemmeno è corretto come termine perché comunque è arrivato un difensore del Frosinone a pressarlo. Quindi non è nemmeno quello il termine più adatto, però ci siamo capiti. Tralasciando quell'occasione, penso che il Cagliari oggi abbia veramente sofferto l'assenza di un giocatore di estrema velocità che ti potesse dare i spunti offensivi. Ci ha provato Azzi a più riprese sulla fascia sinistra, ma ha fatto quello che poteva, di più non poteva fare tra l'altro. Non so se era suo l'assist per Petagna che poi ha dato via il gol di Sulemana, oppure era di Azzi, perché è stato fatto con un destro su quella fascia. Azzi la vedo difficile che possa grossare di destro. E Zappa, non so perché, ma oggi l'ho sempre visto solo e soltanto a sinistra. Non capisco perché abbia giocato a sinistra. Se qualcuno mi sa dare una motivazione, me lo dica, perché io, Zappa, oggi l'ho visto sempre a sinistra. E sempre a metà tra il centrale e il terzino. Non so che ci facesse lì, però sta di fatto che ha giocato in quel ruolo. Tra l'altro adesso punizione. Dossena, colpo di testa, parata da Turati praticamente sulla riga. Ancora? Augello, grossa in mezzo, ma niente. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ci sono tanti argomenti da snocciolare per questa partita. Il primo, penso sia il gol di Sulemana. Sono stato estremamente contento per lui. E' estremamente contento per il modo in cui è arrivato il gol. Perché, sembrerà ridicolo, ma ha avuto una coordinazione spazio-tempo impressionante. Quindi che vuol dire? Semplicemente che ha fatto quello che doveva fare. Trovarsi, perdonatemi, al posto giusto, nel momento giusto. E cosa significa questo? Andare sulle seconde palle. Il Cagliari non lo fa mai e se lo fa, lo fa male. Invece Sulemana in quel momento si trovava nel posto più adeguato. Ed è stato lì, secondo me, trovandosi anche fortunatamente due difensori del Frosinone insieme a Petagna che ostruivano la visione di Turati. Lì è stato in grado di piazzare un bel tiro e insaccare il pallone. E' contentissimo per lui, sono veramente contento per lui. Però abbiamo bisogno di più gol, così. Abbiamo bisogno di più giocatori che vadano ad inserirsi per recuperare le seconde palle, per andare a cercare quel pallone sporco. Di questo abbiamo bisogno non solo e soltanto dei cross. E poi, vabbè, il primo gol del Frosinone, palesemente che dire, è in fuorigioco. Il secondo gol del Frosinone, quello di Barrenecea, se non mi sbaglio, è stato molto discusso. E secondo me lì c'è poco da discutere. Cioè, è fallo quello. È palesemente fallo. È fallo per il semplice fatto che, chi non ci ha fatto caso, ci faccia caso adesso. Brescianini, dopo non aver trovato il pallone, perché Dossena va a contrastare il pallone, va a sbarazzarlo dalla nostra area di porta. E ok. Arriva prima lui, di Brescianini. Brescianini, non trovando il pallone, ma essendo comunque in corsa, che può, ma secondo me non può essere una giustificante, va con le gambe, sostanzialmente, ad arcionare le gambe di Dossena. E quello è fallo. Intanto, ufff, quello è fallo. C'è poco da dire. È fallo. Io tra l'altro all'inizio pensavo avesse dato rigore l'arbitro. Però quello è fallo. È fallo. C'è poco da stare a sindacare su cosa potrebbe o cosa non potrebbe essere. È giusto, è stato giusto annullare il gol, per come la vedo io. Poi è chiaro che molti potrebbero pensare che io sia di parte, ma penso che in questo caso il regolamento parli chiaro. Per carità, non c'era cattiveria, non c'era volontà, però è chiaro che se arriva prima il giocatore del Cagliari, e dopo quello del Frosinone, e quello del Frosinone lo trova al pallone, è chiaro che poi andrà a prendere il giocatore del Cagliari. È contatto, è fallo, va negato il gol. Punto. Poi vorrei fare un plauso a scuffè. Tra l'altro quattro minuti di recupero, siamo già al 92esimo. Vorrei fare un plauso a scuffè, perché su quel gol è riuscito a levare una palla dalla linea clamorosa. Veramente... Uuuuh! Madonna mia! Madonna mia! Chi ha presa la palla di testa? Porco Giuda! Chi ha presa? Pavoletti, chi era? Sì, Pavoletti. Mamma mia! Porca troia! Stavo dicendo, scuffè ha fatto parate importantissime a più riprese, ma quella su quello che poi sarebbe stato il gol annullato, secondo me è stata veramente clamorosa. Tanto di cappello a scuffè. Tra l'altro partita veramente molto nervosa, che secondo me sente gli strasci di quella che è stata la partita dell'anno scorso in Serie B. Palesemente. E anche quella dell'andata. Purtroppo è così. Poi... Mi viene da dire che il gol del pareggio del Frosinone è stato quanto di più imbarazzante possibile. Veramente imbarazzante. Ma noi siamo stati imbarazzanti. Perché vedere... Cosa? Mazzitelli completamente da solo andare a colpire liberamente di testa ha veramente dell'imbarazzante. Una squadra di Serie A non si può permettere errori simili. Tra l'altro sta entrando Bonifazzi, che è stato un nome che per molti anni, molti anni, è stato accostato al Cagliari. È andato al Frosinone, adesso sta per entrare per difendere un pallone. E poi... Ragazzi, c'è il gol del 2-1. Intanto, prima di parlare del gol del 2-1, seguiamo questo calcio d'angolo. Va Ugello alla battuta. Cross è in mezzo, abbastanza ampio. Colpo di testa di Lapadula, che però non va a finire bene. Spazza la difesa del Frosinone. Sulle mano la rimette in mezzo, ma senza esiti positivi. Il Frosinone può ripartire in contropiede. Guarda se arriva il terzo, eh. È arrivato il terzo. È arrivato il terzo. Io abbasserei il volume, tanto ormai la partita è finita. E... stavo dicendo, per quanto concerne il gol del 2-1, quella punizione è stata regalata, perché il contatto tra Dossena e Caio e Giorgio era quanto di più normale possibile. Non c'era fallo, non c'è stata trattenuta, non c'era assolutamente niente. Non capisco come si faccia a dare una punizione così, però... per quanto io possa chiacchierare, comunque la punizione è stata data. Ci possiamo fare ben poco. Loro ci hanno segnato. Amen. La partita sta per finire, o comunque è finita, si chiude questo capitolo e si va avanti. Dispiace. Dispiace perché secondo me l'impegno era abbordabile oggi. Si poteva fare qualcosina, si poteva fare di più, si poteva fare meglio, specialmente tenendo conto che il Frosinone comunque veniva da una serie tutt'altro che positiva, e quindi potevamo sfruttare appieno questa cosa a nostro favore. Così non è stato e adesso ci aspetta un binomio di partite che se non erro non è per niente facile perché stiamo parlando di Lazio e Roma. Quindi fare punti oggi sarebbe stato di vitale importanza anche perché avremmo sorpassato proprio il Frosinone e avremmo agguantato il Genoa a 21. Adesso il Frosinone andrà a 22 e si crea un distacco che per carità non è irrecuperabile ma sicuramente è un distacco importante perché stiamo parlando di 4 punti. Speriamo di poterli rifare. Oggi mi ruote veramente il culo. Mi ruote veramente il culo perché me la prendo un po' con gli arbitri per come è stata gestita la partita. Più che altro per per quella punizione che secondo me è inesistente però me la prendo ancora di più con il Cagliari perché scusate capisco l'assenza di Oristanio per un fortunio capisco l'assenza di Lombo per la Coppa d'Africa ma si doveva fare di più. Oggi la maggior parte dei giocatori in realtà non mi è piaciuta salvo giusto Magumbu ma per il resto veramente zero zero spaccato anche Petagna non mi è piaciuto non ho capito il senso della partita di Zappa dove ha giocato perché ha giocato in quella zona di campo male male tra l'altro oggi Viola ha fatto giusto un intervento in interdizione che mi è piaciuto ma per il resto anche lui uno dei grandi assenti della partita secondo me questa partita fa male non mi è piaciuta minimamente e io mi auguro sarà irrealistico un po' pensarlo ma a questo punto non esistono più alibi bisogna affrontare ogni cazzo di partita a prescindere da quale squadra affronteremo con il coltello tra i denti e non esiste più io l'ho detto in primis nella prima parte di stagione ma da adesso in poi non esiste più contro questa squadra non possiamo anche perdere no d'ora in poi dobbiamo vincere ovviamente non si possono vincere tutte le partite quindi questo cosa significa che d'ora in poi dobbiamo fornire la prestazione migliore possibile dobbiamo far sudare qualsiasi tipo di risultato alle avversari che saremo noi a vincere o che saranno loro dobbiamo scendere col coltello tra i denti e fare in modo che ogni partita sia la più difficile del loro campionato è utopistico pensarlo lo so ma è così che deve essere è così niente ragazzi oggi veramente mi ruote il culo oggi mi ruote veramente tanto il culo il video finisce qui fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo non ci becchiamo in un prossimo video bella grazie a tutti